buongiorno a tutti allora devo chiedere venia perché non sono riuscito a trovare il culo a parte che l'hanno fatto i sette piloti perché sono solo 17 i piloti che hanno partecipato al gran premio d'argentina quindi ragazzi miei andiamo direttamente al q2 vediamo com'è andata tenendo conto che dal culo sono stati promossi ales marquez e fabio quartararo un ales marquez bello on fire ma comunque ecco i magnifici 12 che si giocheranno la pole position del gran premio d'argentina anzi si sono giocati visto che ormai siamo a martedì ales e spargaro vignales mezzecchi marini zarco bagnaia orge martin nakagami morbidelli riz ales marquez e quartararo pista bagnata quindi tutti con le rain anche se ha smesso di piovere vedremo se la pista magari si asciugherà e permetterà a qualcuno di mettere a suo rischio pericolo le slick per cercare magari il colpaccio a sette minuti e mezzo dalla fine del q2 pole provvisoria per zarco davanti a vignales e morbidelli quindi quartararo e orge martin naturalmente c'è ancora tempo mancano sette minuti e mezzo in ogni caso libidine ragazzi mia fa libidine vedere il morbido lì dove nessuno se l'aspetta lì a giocarsi la pole position lì a giocarsi magari nella gara sia nella spring race che si sputerà alla sera sia nella gara importante di domenica magari la zona podio chi lo sa un morbido così bello morbidoso così in avanti non me lo aspettavo intanto i piloti rientrano ai boss e qualcuno si arrisca mettere le slick mentre altri sono ancora fuori con le rain per un ultimo tentativo poi eventualmente rientrano e mettono le slick a due minuti e mezzo dalla fine comanda ancora zarco davanti a vignales morbidelli quartararo e marini bagnaia soltanto ottavo ma in pista adesso con le slick e sta cercando di metterle in temperatura e con circospezione a riuscire a fare uno o due giri per cercare di migliorare a poco meno di due minuti dalla fine del q2 morbidelli con un gran giro a prendersi la pole position davanti a zarco a lei se spargarò vignales e quartararo quindi vedete ma il morbido sta tornando il morbidone sta tornando alla fine sembrava che bezzecchi si fosse riuscito a prendersi la pole position stavano già festeggiando ma poi è arrivato il buon ales marquez e gliela ha portata via poi zitto zitto cacchio cacchio bagnaia con le sue belle slickine messe se ne metteva prima ma purtroppo probabilmente la pista non l'avrebbe consentito lo stesso riesce a inserirsi al terzo posto si prende la prima fila e quindi partirà anche terzo per la sprint race eccetera 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 di cui parleremo subito è prima di dirvi anzi prima vi dico la griglia di partenza che varrà sia per la sprint race della sera che per il giorno dopo la griglia di partenza vede ales marquez bezzecchi e bagnaia in prima fila morbidelli vignales e zarco in seconda fila marini orge martine alese spargarò in terza fila quarta rarona cagami e rins in quarta fila raul fernandez di gianantonio e binder in quinta fila miller e augusto fernandez in sesta fila pensate solo 17 piloti alla partenza di un gran premio la sprint race che si è disputata sabato sera ha visto la vittoria incredibile ma vero di brett binder davanti ai due italiani bezzecchi e marini quindi al quarto posto buon morbidelli che ripeto segni di risveglio per il morbido poi ales marquez e bagnaia che si deve accontentare del sesto posto ragazzoli mi spiace ho fatto un video abbastanza veloce veloce da leccarsi le orecchie ma ahimè a parte che fare un q1 con solo sette piloti mi scappava anche se l'avessi registrato mi scappava abbastanza da ridere perché è veramente una tristezza è bello il culo che sono alberi 12 a giocarsi la la del culo ma sette c'è abbastanza scutatello adesso andiamo a vedere un attimino la griglia di partenza che erano i sette che si sono giocati allora c'erano fernandez di gianantonio miller augusto fernandez e probabilmente binder si esatto binder binder allora ferma raul fernandez di gianantonio brett binder miller augusto fernandez e poi naturalmente i due che ce l'hanno fatta a inserirsi cioè ales marquez e quartararo ragazzi miei l'unico che poteva tra virgolette dare un po fastidio agli altri due era miller che però ha fatto un po pena ecco per intenderci quindi praticamente c'erano tre piloti per due posti perché gli altri era abbastanza clamoroso di gianantonio e due fernandez che si prendessero loro un posto in culo avrebbero dovuto fare tanto ma tanta ma tanta roba comunque niente questa è la griglia di partenza vedremo come è andata perché ve ne parlerò subito perché è già tutto pronto c'è qua il pizzino di quello che è successo nella gara con tanti colpi di scena veramente è stata non dico niente non spoileriamo non spoileriamo anche se probabilmente se l'avete vista saprete già tutto però a me piace sempre raccontarvela detto questo sperando che non vi faccia scherzi nuovamente perché avevo già fatto questo video ma mi ha fatto lo scherzetto di non caricarlo il mio cellulare che stamattina l'ho guardato e la camera non funzionava poi mi ha detto devi aggiornarlo l'ho aggiornato ho fatto il video non l'ha caricato adesso sto facendo questo spero che lo carichi a meno che non ci vuole un po di tempo per caricarlo come fa di solito perché ogni tanto non me lo carica subito ci mette un attimo vedremo mi auguro di risolvere il problemino perché sennò mi tocca fare il video con il computer sapete non è che mi esalta più di tanto perché poi anche quello di tanto lo carica ogni tanto non lo carica e mi girano i testi chiedo venia mi sono dilungato troppo ci vediamo alla prossima sperando che vi si carichi due video ciao